E' possibile guadagnare fino al 365% all'anno utilizzando delle soluzioni automatiche a basso rischio? Beh, in questo video risponderemo proprio a questa domanda. Ti mostrerò in particolare due soluzioni che utilizzo per giocare con la mia liquidità che tengo da parte in modo da non lasciarla svalutare dall'inflazione e ottenere interessi costanti. Una di queste soluzioni sarà più conservativa, una invece sarà molto più speculativa. Quindi resta con me fino alla fine di questo video perché ti mostro sia come funzionano e come puoi crearli tu in modo manuale sia come automatizzarle tramite una piattaforma che vedremo tra pochissimo. Partiamo quindi subito. La prima soluzione è l'utilizzo del arbitraggio. Avremo sicuramente già sentito parlare di arbitraggio, in particolare qua ti mostro un arbitraggio un po' particolare, cioè l'arbitraggio tra futures e spot. Devi sapere infatti che tendenzialmente il prezzo spot di un asset, in particolare nel mondo delle criptovalute, e quello sui futures tende a essere leggermente discostato. Tra poco lo vedremo con un esempio pratico. Nel caso dello spot si parla del valore del sottostante, cioè dell'indice o dell'asset di riferimento. Esempio prendiamo bitcoin, ipotizziamo che sia scambiato a 10k. Questo è il prezzo reale in questo momento su un determinato exchange di questo asset qui, quindi di bitcoin. Sui futures entra in gioco una dinamica diversa. Per chi non sapesse cosa sono i futures, sono sostanzialmente dei contratti derivati che ci permettono di speculare sull'andamento del prezzo di un asset. Quindi mentre sullo spot se io compro bitcoin, compro e possiedo quel bitcoin, e se voglio venderlo devo prima possederlo per poi poterlo vendere, nel caso dei futures io che cosa farò? Andrò a scommettere sull'andamento di quel prezzo. Quindi dirò secondo me il prezzo salirà, quindi andrò si dice long, oppure dirò secondo me il prezzo scenderà, quindi andrò short. Qual è la differenza tra lo spot e i futures? C'è una differenza sostanziale ma che va a modificare e va a compromettere un pochino il bilancio del prezzo. E si chiama leva. Tendenzialmente sui futures, poiché si utilizza una leva, si tende a esporsi in maniera molto più profonda, molto più marcata, rispetto a quello che si può fare su uno spot. Infatti sullo spot, ipotizziamo ho 10k, posso entrare e comprarmi un bitcoin. Ma sui futures, se io ho 10k, posso entrare, piazzare una leva 100 per e non comprare più un bitcoin ma comprarne 100. O meglio, scommettere, comprare un derivato, un contratto che mi permette di scommettere sul prezzo di bitcoin, in questo caso però con leva 100, quindi usando della liquidità prestata. Cosa succede? Succede che come sappiamo quando sul mercato entrano buy e sell tendono i prezzi a muoversi, oscillare. Di conseguenza, se non ci fosse un sistema che regola il rapporto tra il prezzo del sottostante, quindi il prezzo spot di un asset, con il prezzo del suo compagno nel trading, sui futures, allora avremmo probabilmente un prezzo spot che sta a 10k e qui magari la gente va a long e il prezzo sale a 100k. Qui ci sarebbe un dislivello troppo alto. Allora che cosa è successo? È successo che ci si è inventati quelle che si chiamano le funding fee. Cosa sono le funding fee? Sono delle fee appunto, delle tasse, delle commissioni, che vengono pagate nel lato futures, quindi vengono pagate solo sui futures, non ci sono sullo spot, vengono pagate sui futures con l'obiettivo di andare a riequilibrare e tenere vicini quelli che sono i prezzi. Abbiamo detto 10k, qua per esempio il prezzo può essere 11k, in realtà più basso, magari 10.1, 10.2, qui non così tanto elevato, però io ti faccio un esempio più drastico in modo che tu possa capire effettivamente questo concetto qui. oppure possono essere 9k e così via. Quindi l'ideale è ovviamente portarle al valore dello spot, quindi tenere il più vicino possibile al valore dello spot. Come si fa? Allora, tendenzialmente ci sono, abbiamo detto sui futures, due posizioni che possono essere aperte. Il long, se pensi che il prezzo andrà in su, o lo short, se pensi che il prezzo andrà in giù. Quando il prezzo sui futures è più alto rispetto lo spot, quindi esempio abbiamo detto prima, spot 10k, futures 11k, chi è long andrà a pagare la funding fee, ho scritto da cane ma non importa, andrà a pagare questa funding fee a chi? Allo short, in questo modo si va a riavvicinare il prezzo dei futures al prezzo spot, lo si va a ripareggiare facendo pagare questa tassa che va a diminuire l'impatto sul prezzo, di conseguenza riavvicina le due cose. E in questo caso i long pagheranno gli short per mantenere le posizioni attive. Viceversa, quando il prezzo dello spot è più alto di quello dei futures, quindi ipotizziamo spot 10k, futures 9k, allora cosa succede? L'esatto opposto, quindi sarà lo short a pagare la funding fee a long. Perché long si chiama long e short si chiama short? E come possiamo noi trarre vantaggio proprio in questo caso dall'arbitraggio, cioè come funziona l'arbitraggio? L'arbitraggio di per sé funziona così. Io vado a comprare spot un asset e vado a venderlo, o meglio shortarlo, sui futures. Quindi io compro per esempio un bitcoin e poi shorto un bitcoin sui futures. Che cosa mi permette di fare questa cosa qui? Mi permette di essere neutral, quindi neutro sul mercato. Perché se io compro un btc e lo holdo, lo detengo e dall'altra parte vendo, cioè sto shortando, non vendendo, sto shortando sui futures, quindi sto scommettendo contro la crescita di btc per la stessa quantità, va da sé ovviamente che io ho una posizione long. Ipotizziamo che il prezzo sia qua. Io ho comprato qui btc e ho shortato sempre qui btc, quindi qua è così e qua lo sto possedendo. Quindi se il prezzo sale, cosa succede? Succede che questo controvalore in portafoglio aumenta, quindi sto guadagnando, ma contemporaneamente avendo uno short aperto che va in perdita, sto perdendo soldi. E quanto sto perdendo? Sto perdendo la stessa quantità che sto guadagnando, perché ho puntato uno e uno da entrambe le parti. Viceversa se il prezzo scendesse, cosa succede? Succede che io sto guadagnando lato short e sto perdendo lato holding. Quindi rimango neutro al mercato e di conseguenza uno direbbe ok, se io sono neutro sul mercato, da dove guadagno? Guadagno proprio dalle famose funding fee. E quanto posso guadagnare da queste funding fee? Beh, dipende poi chiaramente dall'asset, da quanto è volatile, da quanto è scambiato e da quant'è il rate per quelle funding fee. Perché le funding fee cambiano, possono essere più alte o più basse a seconda dell'asset su cui si sta operando. Una cosa importante da notare. Perché si compra l'asset e si va short sul mercato? Ovviamente la risposta è estremamente banale, perché io nel caso spot devo comprare un asset e detenerlo. non posso vendere un asset che non ho. Quindi non posso fare vendo spot e acquisto vado long sui futures. No, perché è un controsenso, non si può fare. Ma al di là di questo, una cosa importantissima da notare sui futures è che tendenzialmente i long rimangono aperti per più tempo rispetto gli short che rimangono per meno tempo. Questo ci dà una visione interessante da considerare. Tra l'altro la posizione si chiama long, proprio perché tendenzialmente la si tiene più a lungo termine, e short perché è una cosa che si fa immediata sul mercato, quindi più di breve termine. Anche dai termini ci può venire questa intuizione. Ed effettivamente è così. Poiché la maggior parte di persone tende a stare più tempo long sul mercato rispetto che short, allora tendenzialmente il prezzo futures tendenzialmente, non vuol dire che sarà sempre così, tenderà a essere leggermente più alto rispetto il prezzo dello spot che sarà leggermente più basso. E quindi tendenzialmente i long pagheranno gli short. E quindi avere una posizione aperta, quindi in holding sullo spot, un acquisto fatto e contemporaneamente un sell ci dà un vantaggio statisticamente parlando superiore di poter ottenere appunto queste funding fee. Poi delle volte non sarà così, non le otterremo, delle volte le otterremo, però tendenzialmente in questo modo saremo neutri sul mercato e guadagneremo appunto queste fee. Ovviamente per ottenere delle fee interessanti devo essere esposto sul mercato con tanta tanta liquidità. Quindi questo va da sé, ovviamente bisogna dirlo. Ora vediamo come automatizzare questo processo. Per automatizzare questo processo io personalmente utilizzo Pionex. Che cos'è Pionex? È un exchange centralizzato, quindi come tutti i classici exchange, Binance e così via. Un exchange che ad oggi non ha l'obbligo di KWC, quindi puoi ancora operare senza KWC volendo, ovviamente non puoi depositare euro, ma devi depositare già crypto, stablecoin e così via. Se vuoi depositare euro, le compri su un altro exchange dove hai la verifica d'identità e poi te li porti di qua. Perché Pionex? Pionex è un exchange con provo reserve, quindi tutti i fondi su questo exchange sono auditati e ogni settimana, ogni 15 giorni c'è la provo reserve, quindi ci dicono effettivamente guarda che i fondi sono qua, non li stiamo usando per fare altre cose, sono i tuoi fondi e sono qua custoditi da noi. E poi perché ha veramente tantissimi, tantissimi bot e tantissime soluzioni automatizzate. Pionex è ad oggi il leader di mercato per le soluzioni automatizzate ed è un exchange totalmente gratuito che ci dà decine e decine di bot che possiamo utilizzare veramente come vogliamo. Qualsiasi strategia o quasi qualsiasi strategia può essere automatizzata qua su Pionex. Ed ecco perché la soluzione che preferisco è in assoluto il mio exchange preferito per operare proprio per questa cosa qui. In particolare andiamo a vedere le soluzioni che ha sull'arbitraggio. Fino a qualche tempo fa l'arbitraggio c'era un bot specifico che ci faceva fare appunto arbitraggio scegliendo un asset su cui operare. Si sono poi evoluti, quindi sì, volendolo puoi fare manualmente, quindi puoi comprare sullo spot Bitcoin, Ethereum, qualsiasi cosa e poi sui futures shortarlo, puoi assolutamente farlo manualmente, oppure utilizzare la soluzione che hanno loro qua negli earn, che è quella che utilizzo io. Se andiamo negli earn, andiamo a cliccare arbitrage, eccolo qua, ci sono diverse soluzioni che implementano diverse coin. In questo momento, come puoi vedere qua, io ho 1400 dollari caricati qua, tra l'altro ti fa anche il compound, quindi quello che ti guadagna di interessi lo va a reinvestire. Come vedi, in questo caso gli interessi non sono elevatissime, quindi le funding fee non sono elevatissime, però tendenzialmente, diciamo, scegliamo tra un 5-6% annualizzato fino anche a un 20-30% annualizzato. Statisticamente ci teniamo più o meno intorno a un 10%. Delle volte, quando il mercato è più spinto, quindi ci sono più volumi, si tende ad avere delle commissioni, quindi delle funding fee più alte, come in questo caso, delle volte invece più basse. Personalmente ho scelto diverse soluzioni, come vedi qua, loro ci offrono diverse soluzioni. Quella che statisticamente funziona meglio è questa qui. Io ho scelto quindi una quota di liquidità, la maggior parte di liquidità l'ho messa in questa soluzione qua, che è automatizzata, dentro cui vengono scelte le coin in automatico da loro. Qua ci fa vedere anche quanto sta pagando, esempio il 14, vedi abbiamo avuto delle funding fee medie, 14, 15, 12%, il 15 adesso siamo a un 17, 15, 16, poi variano a seconda di come va il mercato, delle volte sono più alte, delle volte sono più basse, ma tendenzialmente stiamo su quel range che ti ho detto. Negli ultimi 30 giorni, come vedi, questo compound qua mi ha fatto 4 dollari, che non è male. Puoi in qualsiasi momento prelevare tutto, cioè toglierlo da questo bot qui, non hai da aspettare tempo, cioè non ci va nulla, fai semplicemente il prelievo e li riprendi, oppure puoi riprenderti i reward, i premi, io li lascio in modo che facciano appunto il compound, ti mostra poi tutte le transazioni, quelle che hai fatto tu, quindi quanto hai comprato, e così via. In questo caso ti fa vedere anche qua gli asset su cui sta operando, principalmente vediamo bitcoin, una proporzione del 78,44%, queste sono le funding fee attuali su bitcoin, 0,01%, poi c'è ondo, e vedi che via via ci sono delle fee più alte, esempio questo, ha probabilmente dei volumi un po' particolari, perché è una coin relativamente nuova, magari speculativa, io non la conosco personalmente, qui abbiamo uno 0,14% di funding fee. Quindi che cosa succede? Succede che questo prodotto qua, va a mediare, a seconda delle valute che vai a inserire, quindi se ci sono delle valute che iniziano a far schifo, le toglie e ne inserisce altre, per cercare in automatico di avere il rate migliore, e poi qua ti fa vedere la distribuzione, tutti i vari rate, come stanno andando. Delle volte sono in negativo, delle volte sono in positivo, perché abbiamo detto, delle volte sono i long che pagano gli short, delle volte gli short che pagano i long. Anche se tendenzialmente sono i long a pagare gli short, però non è detto che delle volte non sia il contrario. Quindi questo qua è quello che statisticamente sta lavorando meglio, ecco l'APR in questo caso dei 30 giorni è stato intorno a un 11,75%, quindi molto molto buono. Abbiamo poi una soluzione stable, questa lavora su BTC ed ETH, è un pochino più blanda, cioè è molto più lenta, però anche questa tendenzialmente comunque se la cava, in questo caso andiamo a vedere i dettagli, vedi ha una pierde nei 30 giorni di un 4%, poi abbiamo un customize, quindi tu puoi creartela come vuoi, assemblartela come vuoi, e poi un balanced che utilizza un multicoin, adesso non ricordo, mi pare ci fosse ADA e Solana, eccole qua. E anche queste non sono proprio fortissime ultimamente, quindi tendenzialmente quella più potente è questa, perché non ho messo tutto qui e ho distribuito anche un po' qua e qua, in modo da andare a mediare leggermente, perché delle volte questa qua crolla magari a un 5% e queste qua parallelamente ti salgono. Quindi da avere giusto una media. Quello che interessa a me con questo bot è avere una media che si aggiri intorno almeno a un 10-12% annualizzato, quindi parcheggio la mia liquidità qua, mentre attendo di utilizzarla per i vari bot, le varie soluzioni che ho su Pionex e ne ho parlato in diversi video, te li lascio magari linkati qua sotto, parcheggio la mia liquidità qua, così intanto mi guadagno interessi. E poi la uso quando mi serve, basta sbloccarla e non ci va niente, perché faccio preleva, me la preleva e poi la posso usare in tutti i modi che voglio. Quindi un modo per tenere la liquidità qui, ottenere interessi, mentre parcheggiata in attesa di riposizionarmi sul mercato. Ora ti vado a mostrare velocemente come funziona, a me basta fare more, purchase, gli dico quanto voglio mettere, ad esempio ora quanto ho, 3 dollari, quindi posso fare ben poco, però gli dico dammi il minimo i 10 dollari, gli dico comprami 100 dollari, gli do ok ed è fatto, semplicemente a quel punto aspetto. Se voglio prelevare faccio redem e in questo caso prelevo tutto quello che sono andato a depositare, oppure posso cliccare release reward per andare a prelevare solo i reward, quindi in questo caso 4 dollari, semplicissimo. Ora ti vado a mostrare sullo spot la differenza di prezzo, così che tu possa avere un'idea, prendiamo per esempio bitcoin, penso sia un pochino più evidente, prendiamo bitcoin, andiamo a duplicare la pagina, così ti mostro in tempo reale lo spot su bitcoin e i futures su bitcoin, così che si vede effettivamente questa discrepanza. Allora futures, bitcoin, eccolo qua. Allora attualmente sullo spot andiamo a vedere bitcoin è scambiato a 65.763, sui futures 751, come puoi vedere abbiamo da un lato 7.62 adesso 7.33, quindi in questo caso un pochino più basso lato, ecco qua, lato futures, rispetto invece lo spot. E voilà, è molto molto semplice, come vedi c'è della discrepanza, non è mai identico. E questa era la prima soluzione, la soluzione più conservativa, la soluzione è sostanzialmente risk free, a zero rischio, se non, andiamo a sottolineare, il rischio di controparte, cioè io sto utilizzando Pionex, se Pionex fallisce, io c'ho i soldi sopra e succede magari come FTX, devo stare lì a aspettare, tutta una serie di fattori. questo è il caso estremo in cui l'exchange non funzioni, è un exchange comunque molto serio, fino ad oggi non ha mai avuto alcun tipo di problemi, che non vuol dire che non possa poi averli. Ragazzi, come sempre bisogna dirlo, bisogna sempre fare attenzione quando utilizziamo degli exchange e possibilmente usiamo exchange seri, però se usi Binance, o usi Kucoin, o usi Pionex, cambia poco, cioè ti stai sempre comunque esponendo allo stesso tipo di rischio. Però era giusto, è importante sottolinearlo, perché sì, di base l'arbitrage non ha chissà quale rischio sul lungo termine, cioè sono molto molto assottigliati, perché sei neutrale sul mercato e vai a prendere solo funding fee, però c'è il rischio della piattaforma che utilizzi, così come c'è se li vai a depositare su una delle piattaforme che ti generano interessi. Stesso principio. Ora passiamo alla soluzione un pochino più complessa, spero di stare in dieci minuti nel video per spiegartela, se non importa andiamo più lunghi, però ci tengo che sia ben chiara, è una soluzione un po' più aggressiva, ma che può portare a degli interessi di tanto maggiori, cioè parliamo magari di uno 0,5, un per cento, a volte anche due per cento giornaliero, dipende poi da come vengono settati, con quale grado appunto di rischio, con quale tolleranza rischio. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei bot opzionari. Non voglio parlarti di opzioni in questo video, perché sennò diventerebbe un video di due ore, però ti vado a mostrare le soluzioni che ci sono qua su Payonex, quale tipo di funzionalità ci danno e come possiamo utilizzarle a nostro favore. Allora, sempre nel Learn, io posso andare qui in strutturati, clicco. Che cosa abbiamo? Abbiamo i dual investment. Clicchiamoli. Ok. Clicchiamo in earning robot ed ecco qua i vari tipi di investimenti. Personalmente utilizzo la Flying Wheel. La Flying Wheel è un mix automatizzato che nasce da questa roba qua, che adesso ti mostro nel dettaglio cosa vuol dire. È un po' come fossero opzioni call e opzioni put, se dovessimo parlare appunto in termini opzionari, però non te ne parlo qui, magari in un video dedicato, anzi scrivi in qua sotto se ti può interessare, ne parleremo, però tendenzialmente ti mostro come si chiamano qua e perché uso questa. Questa qui è una cosa nuova che è uscita che mi permette di automatizzare. Una volta utilizzavo uno e due in combinazione, adesso invece utilizzo solo questa qui perché incorpora queste due. Allora, by the dip come funziona? Semplicissimo. Io posso, qua dice, comprare cripto al mio target price mentre guadagno passive income, quindi entrate passive. Viceversa il Covered Gain è il guadagno coperto, cioè vendo cripto ad un punto preciso, mentre in guadagno passive income. Con il Flying Wheel noi andiamo ad unire queste due cose. Una volta, quando non c'era il Flying Wheel, che cosa facevo? Io compravo il Buy the Dip e compravo il Covered Gain contemporaneamente. Cioè facevo una strategia Delta Natural, la chiamo, quindi neutrale sul mercato. Cioè, allora, iniziamo con il Buy the Dip. Che cosa mi permette di fare il Buy the Dip? Mi permette di scegliere un prezzo a cui comprare un asset. esempio, adesso Bitcoin è scambiato, abbiamo visto, a 66k. Io credo che Bitcoin possa scendere di nuovo a 50k. Perfetto, allora avvio un Buy the Dip a 50k. Le soluzioni sono due in questo caso. Se io credo che Bitcoin possa scendere a 50k, posso acquistare, semplicemente, piazzare un ordine limite a 50k e aspettare. In quel caso la liquidità congelata che non guadagna interessi. D'altra parte, anziché usare un ordine a limiti, io posso usare un Buy the Dip, dove vado a piazzare l'ordine a 50k, comprerò a 50k quando e se il prezzo raggiungerà quel livello, ma nel frattempo la mia liquidità che sto mettendo in pausa per poter acquistare, sodando a questo contratto, che cosa fa? Mi guadagna degli interessi. Quindi esempio, io sto mettendo, facciamo finta a 50k, quindi voglio comprare un Bitcoin, ipotizziamo appunto un Bitcoin a 50k, metto 50k di liquidità, questa liquidità mi sta prendendo degli interessi, in attesa di arrivare poi a evadere l'ordine, quindi al Buy the Dip, quindi comprarmi quel dip, comprarmi quel calo, arrivo a 50k, mi compra Bitcoin, quindi io che cosa avrò in portafoglio? Avrò un Bitcoin comprato con i miei 50k, e dall'altra parte dei dollari, dei WSDT o WSDC, quello che è, che ho generato, mentre attendevo di raggiungere questo livello qua. D'altra parte io posso anche non raggiungere questi 50k, quindi rimanere sopra i 50k e andare a continuare ad accumulare degli interessi, semplicemente. Quindi dipende poi dagli scenari, da che cosa mi aspetto. Andiamo al contrario. Io ho delle crypto in portafoglio, e quindi ora voglio fare il sell, quindi per venderle devo fare il covered gain. Qual è la differenza? Di nuovo, abbiamo Bitcoin a, abbiamo detto, 60k, io, oppure, ancora meglio, facciamo finta di essere riuscite a evadere l'ordine a 50k, quindi adesso io ho un Bitcoin a 50k, e voglio venderlo. Quando? Quando raggiungerai 60k. Di nuovo, o piazzo un ordine al limite, dicendogli, vami a vendere a 60k, e in questo caso il Bitcoin rimane fermo, sta lì, e man mano che si muove, oscilla, il prezzo un po' sale, un po' scende, ma finché non raggiungere i 60k, mi tengo in holding quel Bitcoin lì, oppure faccio lo stesso principio di prima, ma al contrario, faccio il covered gain, cioè io vado a dargli il target di vendita, quindi dico questo è il mio target, mentre il prezzo oscilla finché non viene evaso, quindi finché non mi va a colpire i 60k e viene effettivamente venduto quel Bitcoin, io continuo a guadagnare degli interessi, ma in Bitcoin. Quindi è come se avessi, prende la cosa più semplice, in staking dei Bitcoin, stanno lì, mi ottengo degli interessi, quando poi raggiungerà quel livello, tac, sblocco e vendo. Funziona in questo modo. Quindi da un lato, mentre attendo di comprare, ho gli waste it in mano, che mi danno interessi, viceversa, qua vado a prendere interessi in Bitcoin, perché ho parcheggiato i Bitcoin in attesa di venderli. A questo punto io posso abbinare queste cose come, dando un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita uguale. Quindi, io ipotizziamo Bitcoin si muova a 60k, e sui 60k, questo qua era il nostro famoso 50k. Quando il prezzo scenderà, vado a toglierti queste due scrittine, ecco qua, tu sai che questo qui è il mio range dei 50k, sai che io su questo range, acquisto e contemporaneamente vendo. Quando il prezzo di Bitcoin oscilla sopra, che cosa ho attivo? ho attivo il buy the dip, quindi acquisto tramite il buy the dip. Di conseguenza, sui miei dollari che sono andato a mettere, ipotizziamo di aver messo 50k dollari, sui miei dollari che sono andato a mettere, vado a guadagnare interessi in dollari, appunto, perché sta avendo luogo quello che è il buy the dip. Viceversa arriva a un punto magari dove il prezzo fa questo, quindi oscilla qua e sto guadagnando dollari, a un certo punto crolla e mi va a colpire e va a dare l'ordine, quindi effettivamente mi acquista questa cripto qui. Nel momento in cui me la acquista, mi va a settare anche la vendita, quindi la rivende nello stesso identico momento. Quindi parte il covered gain. In questo modo, se il prezzo poi rimbalza e torna su, continua di nuovo, mi ha fatto l'acquisto e mi va quindi a ottenere ancora interessi di nuovo in dollari, ma se il prezzo scende giù, si attiva il covered gain e di conseguenza io continuo a ottenere interessi, ma nella valuta che ho acquistato, quindi in questo caso in bitcoin. Quindi qua ottengo interessi in bitcoin finché stiamo sotto il prezzo che ho scelto, il prezzo target, finché stiamo sopra invece questo. Io posso decidere se comprare e vendere nello stesso istante, quindi nel momento in cui compra, mi vende anche, oppure se attendere a un altro prezzo, quindi vado a unire le due cose, esempio il buy the dip, gli do qua il target di 50k, il covered gain, gli do anche a lui un target magari di 55k, quindi sono un po' sfalsati, lui si muove e mi va a ottenere comunque interessi in una direzione o nell'altra. La differenza è che facendo acquista e vendi nello stesso istante, io non andrò a holdare crypto, cioè nel momento in cui vado a chiudere il bot, non ho i bitcoin in mano, mentre se faccio un buy the dip, compro e quando chiudo il bot, cioè viene eseguito, io ho in mano i bitcoin, nel caso dell'unione, quindi della anche vendita immediata allo stesso prezzo d'acquisto, non li ho, perché qua l'obiettivo di questo tipo di bot è guadagnare interessi, fine, cioè è una speculazione pura sul prezzo, dove da un lato guadagno interessi finché il prezzo sta sopra, e li guadagno in dollari, quando il prezzo va sotto, li guadagno in bitcoin, questi bitcoin verranno accumulati, 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 finché il prezzo non torna in target, quando torna in target, mi va a vendere tutti questi bitcoin accumulati, e quindi io vado a ottenere ancora più dollari rispetto a quelli che ho depositato, semplicemente, quindi questo è il sistema, è il come funziona molto in breve, questo tipo di bot, un bot che utilizzo anche qui per parcheggiare una parte di liquidità, e utilizzarla in modo più efficiente, vediamo brevemente come funziona, io posso dirgli crea il bot, posso scegliere basic mod o pro mod, ti consiglio di usare il basic, ci sono comunque tutorial che ti spiegano bene come funziona questo bot nel dettaglio, scegliamo per esempio bitcoin, gli diamo un prezzo, quindi dico a quanto voglio comprare bitcoin, vedi please enter the target by price, quindi il prezzo target d'acquisto, questo qua attualmente è a 65,6, più scelgo un prezzo d'acquisto basso, minore sarà chiaramente il premio che mi viene dato, perché le opzioni funzionano così, cioè se io qua ci metto 10k, penso che neanche ci sia, li dico search, infatti non c'è, diamogli 40k, vediamo se c'è, ecco qua, vedi l'APY è relativamente basso, e poi il settlement sono 10 giorni, 24 giorni e così via, sono tutti APY relativamente bassi, il più alto no, sono proprio tutti bassi. Se io qua invece vado a dargli un prezzo più vicino a quello attuale, esempio 64k, gli APY diventano molto più alti, vedi qua abbiamo un 36%, un 51%, un 53% e così via. Più andiamo vicini con il target price al prezzo attuale, più è facile che gli interessi siano alti. Poi il settlement period, possiamo decidere se farlo giornaliero, ogni due giorni, ogni tre giorni, quindi cosa succede che ogni giorno, se hai raggiunto il 64k, lui ti va a, chiaramente pagare gli interessi, in questo caso un 36 annualizzato, fai 36 diviso, diviso 365, hai quell'interesse giornaliero e se il prezzo poi scende, prendi in bitcoin, se il prezzo sale, poi ti prende in USDT. Più ci avviciniamo quindi al prezzo attuale, maggiore è il livello di interesse che generiamo. Vedi, siamo a 65.600, se io comprassi questo a 65.500, l'interesse annualizzato è del 195%, con un settlement period di un giorno in questo caso, quindi un bot molto più spinto. Proviamo a dirgli buy, voglio comprare questo, mi dice qua in ritorno, io qua devo mettere per forza minimo 10 euro, però è per farti vedere cosa succede, mi dice, se bitcoin al momento del settlement, quindi ogni giorno, è inferiore ai 65.500, guadagni questi bitcoin qua, se è superiore guadagni questa cifra qua, quindi sono 5 centesimi sui 10 dollari che hai messo, se io qua ce ne metto 100 diventano 50 centesimi, se ne metto 1000 sono 5 dollari al giorno, e dall'altra parte 0.015 bitcoin in questo caso. Poi se volessi comprarlo, vado qui, metto lowest tolerance APY, l'1%, e il longest tolerance settlement, vado a sceglierlo. Cosa sono questi due? Allora, se il prezzo, o comunque i movimenti che ci sono attualmente sul mercato, su questa coin, non sono tali da poter avviare una flying wheel, te lo dico in modo molto semplice, lui va a scegliersi un prezzo più vicino a questo, in automatico, e te l'avvia, cioè se dopo il settlement, non trova una soluzione simile, per poter avviare il tuo bot, va a cercarsene in automatico una simile, ecco perché secondo me è molto più comodo da utilizzare. Di conseguenza io tendenzialmente metto un 1% massimo, un 1% minimo di tolleranza, in modo che lui poi va a cercare, sono campi optional, quindi puoi anche non far nulla, però io li compilo, vado a mettere un 1% massimo, perché voglio che mi dia almeno un 1%, perché altrimenti non ha senso, e una tolleranza generalmente di giorni, lo metto stretto tipo un 3 giorni o un 4 giorni, perché magari ti trova un bot, cioè ti fa partire uno di questi da 90 giorni, a noi non frega niente, io voglio un giorno, due giorni, quello che ho sottoscritto, e poi li do continua e l'ho sottoscritto. A quel punto dove li vedo? Io vado in orders, vado in earn orders, e qua vedo tutti quelli che ho sottoscritto, e ti mostro anche quelli che ho attualmente attivi. Ho per esempio questa qui, che ho attivata il 26 settembre, attualmente mi ha guadagnato come arbitraggio 0,62 e 46, quindi un 3% più o meno, nel giro di un mese quasi, quindi molto molto buono. Attualmente l'APY è di un 57.93% annualizzato. Qui il target è 65k, lui attualmente si sta muovendo come vediamo sopra, siamo 65k e 6, e quindi mi sta andando ad accumulare semplicemente i profitti. Ti vado a mostrare anche qua i profit details, così ecco vedi tutti i profitti, guarda l'APY come è cambiato, cambia a seconda di come ti stai muovendo. L'ultimo aveva un APY di un 157%, perché mi stava accumulando bitcoin come vedi, accumulandomi bitcoin perché eravamo sotto i 65k, quando ha superato è andato a rivendermi, come detto prima nell'esempio che ho fatto prima su Paint, è andato a rivendermi i bitcoin accumulati, quindi ha aumentata drasticamente la mia percentuale. Quando siamo partiti, eccolo qua, vedi mi stava guadagnando USDT, e i profitti come vedi erano molto alti, gli APY, poi sono scesi, poi salgono, vedi oscillano a seconda di come si sta muovendo il mercato. Qua ha iniziato poi a guadagnarmi invece bitcoin, perché il prezzo è andato sotto quello che avevo dato io di target, 65k, vedi era partito il covered gain, e siamo arrivati a 64k, 61k, poi man mano che scendeva io continuavo ad accumulare bitcoin, finché poi, vedi sempre covered gain, covered gain, covered gain, finché poi non abbiamo raggiunto ieri, praticamente penso no, abbiamo raggiunto stamattina il prezzo target, quindi siamo ritornati a 65k, mi ha venduto tutto, e adesso siccome si sta muovendo sopra, mi sta andando a guadagnare interessi in USDT. Poi abbiamo un secondo flying wheel, questa qua è attiva dal 31 agosto, quindi inizio settembre, abbiamo per ora guadagnato quindi in un mese e qualche giorno, un mese e mezzo, un 6%, e abbiamo un 49% di APY stimato, anche in questo caso ci sono tutti i vari dettagli, ti fa vedere tutto quello che è stato fatto. Questo qui ha un target a 58k, quindi finché rimane sopra il 58k, mi guadagna USDT. Ne ho poi una che fa schifo, questa qua dove ho messo ETH e BTC, ha un 5% di interesse, per ora sta facendo abbastanza schifo, perché? Perché ETH non sta sparando. Questo qui in alt season mi farà un botto di profitti, però se l'alt season non arriva, questo bot fa cagare, ma infatti ci ho messo veramente pochissimo. L'obiettivo di questo bot è guadagnare Bitcoin, cioè io ho investito BTC, la stessa dinamica che ti ho detto prima con il covered gain e il buy the dip, però, quindi nel classico flying wheel, però nel cambio Bitcoin ETH. In questo caso, se il prezzo sta sopra il range che ci siamo dati, mi guadagna i Bitcoin, viceversa se sta sotto mi guadagna gli ETH. Quando raggiunge, ritorna su questo livello qui, mi vende gli ETH e mi accumula Bitcoin. Quindi questo è un bot identico, ma che mi va a accumulare Bitcoin, come gli altri. Qui abbiamo poi un'altra flying wheel, avviata, 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 il 22,8, quindi fine agosto. Questo mi ha generato ad oggi un 9%, è attualmente un target di nuovo a 65k, anche lui, e arbitrage API un 61,22%. Questa qui invece è attiva dal 24 di luglio, fino adesso mi ha fatto un netto, 2,87%, di guadagnato un 4,96, però ho gli holding, perché qua il target di Bitcoin era 67k, quindi finché sia sotto i 67k, questo ho un holding in negativo, perché sto possedendo dei Bitcoin che non sono ancora riuscito a vendere. Quando poi salirà sopra, quindi raggiungerà il 67k, li venderà, e quindi il profitto netto diventerà il 5%, in questo caso. annualizzato un 21%, come vedi ne avvio anche di più in modo da mediare, avere degli interessi maggiori. Questa qui invece è avviata dal 4 luglio, attualmente il target era 54k a ribasso, quindi mi ha praticamente quasi sempre solo preso interessi, e siamo a un 4,81%, uno stimato di un 16,64% annualizzato. Quindi come vedi utilizzo più strategie parallelamente per far lavorare la mia liquidità. Da un lato conservative, quindi utilizzando l'arbitraggio che ti ho mostrato nella prima parte di questo video, dall'altra più speculative utilizzando prodotti strutturati, come in questo caso il Flying Wheel, che va ad utilizzare contemporaneamente il Buy the Deep e il Covered Gain, quindi opzioni Call e Put se vogliamo. In entrambi i casi le percentuali sono estremamente alte, nel caso arbitraggio siamo molto più conservativi, il capitale è molto più al sicuro, nel caso invece dei Flying Wheel dobbiamo stare attenti a selezionare bene il capitale, però tendenzialmente anche in questo caso è solo un gioco di pazienza, cioè devo solo aspettare se il prezzo cade tanto sotto quello che è il mio prezzo target, mi basterà aspettare e otterrò comunque poi degli interessi nel momento in cui va a ritornare su, quindi è un gioco un po' più di pazienza. Però è comunque interessante da utilizzare e ci porta soprattutto tanti tanti interessi facendo lavorare la nostra liquidità in attesa di andare appunto là fuori sul mercato. Questa è una situazione estremamente particolare dei mercati, come dico tante volte qua sul canale, i mercati sono in hype da un lato, ma nel lato crypto ancora tutto molto frenato, si pensa che il 2025 sia un anno recessivo ed ecco perché una parte della mia liquidità la tengo ferma a ottenere interessi in modo da essere pronto poi per andare a ricomprare a prezzi più bassi nel momento in cui i prezzi effettivamente caleranno. Tutta la liquidità che tengo, chi mi segue da un po' qua sul canale lo sa, non sono mai 100% investito, ma ho sempre una quota di liquidi pronti per poter acquistare, piuttosto che tenerli fermi, li investo in questo tipo di soluzioni. Nell'arbitraggio sono subito e immediatamente accessibili, nel caso dei prodotti strutturati scelgo dei tempi dei settlement più brevi, quindi un giorno, due giorni, tre giorni, in modo che io possa in tempi brevi andare a recuperare i fondi, perché sennò io non posso prelevare se non mi è ancora arrivata la data del settlement. Finché non mi arriva la data del settlement io non posso riprendere i miei fondi. Ed ecco perché tengo date come settlement un giorno, massimo, tre giorni, in modo da avere una disponibilità immediata per poter poi espormi sul mercato. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, qualsiasi domanda scrivila qua sotto. Ti ricordo, ti lascio anche il link di Pionex, se ti registri hai anche tutta una serie di promo, per i nuovi iscritti ci sono dei bonus che possono essere utilizzati per avviare dei futures bot o copiare alcuni dei miei bot. Entra nel mio canale Telegram e avrai 100 dollari in omaggio su Pionex ovviamente se ti registri anche a Pionex per poter ancora una volta avviare futures bot insomma tutta una serie di bonus incredibili fino a 450 dollari che ti lascio qua sotto nel link con tutta la descrizione i dettagli per poterli ricevere. Ti ringrazio per essere stato qui con me lascia like e iscriviti al canale per supportarmi e rimanere sempre sul pezzo qualsiasi domanda sono a disposizione un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.